Questo è il cuore frontale, possiamo vedere la superficie esterna, questo è il squama o tubo del cuore frontale, possiamo vedere nella scala nuova nuova, questa è la sutura metopica e questa è la sutura coronale tra i cuore frontali e i due cuore paretali. Questo è la glabella, questo è il cuore nasale, possiamo vedere attaccato al cuore frontale, questo è il superorbital notte e questo è il margo superorbitalis e questo è l'arco supraciliaris, questa è la superficie esterna, possiamo vedere il processo zigomatico del cuore frontale, e questa è la parte dove il cuore temporale attacca il cuore frontale, sulla superficie interna possiamo vedere il foramen cecum del cuore frontale, questo è il cuore frontale e questo è il groove per l'arteria, stop.